Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come attivare il Direct Play su Windows ovviamente è una funzionalità per i giochi vecchi, quindi in questo caso tu vai su attiva o disattiva funzionalità di Windows oppure Windows Futures e ti esce attiva o disattiva funzionalità di Windows ci clicchi sopra, scendi fino a giù fino a trovare i componenti legacy, clicca sul più, clicca la cartella e clicca anche quest'altra cartella Direct Play e fai ok, farà così una scansione dei strumenti necessari per applicare così questo driver sul tuo PC e una volta fatto il caricamento puoi chiudere tutto quindi come ho detto questa funzionalità ti permette di, come dire, ti aiuta sui giochi vecchi quindi è una funzionalità che è comoda su Windows quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like, per problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!